Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Furto notturno a Monte San Biagio, al bar che si trova nei pressi della stazione ferroviaria, dove i gnoti, nella notte tra lunedì e martedì, tagliando una rete e forzando una finestra, sono riusciti ad introdursi nel locale e rubare alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa, nonché tabacchi e gratte e vinci. A chiamare le forze dell'ordine è stato un vicino insospettito, dai rumori provenienti intorno alle 2.30 dall'interno del locale chiuso. Una volta sul posto, però, i carabinieri non hanno trovato nessuno. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza pare che i malviventi fossero almeno in tre e avessero il volto travisato, oltre ad indossare i guanti. È stata disposta la sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni, residente a Formia, già gravato da precedenti penali e di polizia e attualmente detenuto. Nella misura di prevenzione, spiegano gli inquirenti, si è giunti seguendo l'evoluzione criminale dell'uomo, arrivato ad essere uno dei vertici di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, radicata nel sud pontino che ha portato anche la direzione distrettuale antimafia di Roma ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e in quelli di alcuni parenti. Multa da 6.000 euro per un cittadino italiano ma residente a Fondi, che come riportato dagli agenti della polizia, è stato beccato a bordo del proprio mezzo a due ruote senza patente, senza assicurazione e neanche la revisione. L'uomo in realtà alla vista di due pattuglie della polizia aveva tentato una breve fuga per le strade del centro di Fondi, ma una volta raggiunto dagli agenti ed identificato, questi hanno scoperto come l'uomo non fosse in regola per condurre il proprio mezzo. Di qui la sequenza di multe per un totale di 6.000 euro, oltre al sequestro del mezzo. Avvicendamento in giunta di Itri, come annunciato nelle scorse settimane dopo le dimissioni della vice sindaco Elena Palazzo, nominata assessore regionale dalla giunta presieduta da Francesco Rocca, arriva alla corte del primo cittadino Giovanni Agresti, un'altra donna, anche lei espressione del partito di Fratelli d'Italia. Si tratta di Alessia Mancini, che ieri mattina ha firmato l'accettazione delle deleghe assessorili, diventando così la delegata alle politiche giovanili, sport, tempo libero, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale e digitalizzazione. A Gaeta scoperta una discarica abusiva prosegue al ritmo serrato, l'azione dell'amministrazione guidata dal sindaco Cristian Leccese nella lotta contro gli abbandoni dei rifiuti da parte sia di utenze domestiche che di quelle commerciali. Nella mattinata di ieri, dopo una segnalazione, è stata individuata in via Mandolesi una discarica abusiva di rifiuti proveniente da cantieri edili. Sul posto si sono recati sia l'assessore all'ambiente al servizio integrato dei rifiuti, ovvero Diego Santoro, insieme anche ai responsabili dell'ufficio ambiente e agli agenti della polizia locale. Questi, insieme agli operatori dell'azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti, hanno potuto constatare attraverso l'apertura dei sacchi presenti i presunti responsabili del reato ambientale a danno della comunità. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.